PEC è l'acronimo di posta elettronica certificata. È un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato dalla legge, per inviare documenti e messaggi di posta elettronica con valore legale. Il servizio PEC è un servizio a pagamento, solitamente con rinnovo annuale, e lo puoi attivare tramite diversi fornitori di servizio. Crearla è semplice, e al momento della registrazione ti verranno forniti un indirizzo PEC e una password. Un messaggio inviato tramite PEC è molto simile ad un messaggio di posta elettronica, ma gli viene aggiunto il valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell'invio e della consegna. È a tutti gli effetti la versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno cartacea e punta a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati, sfruttando le potenzialità del digitale. Tutti possono usare la posta elettronica certificata, e non ci sono obblighi o limiti per crearla. Potrai utilizzare la tua casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni importanti, verso privati, o la pubblica amministrazione.